Guido Miserandino poi Vincenzo Crocio per favore domanda risposta se vi fate già qui che velocizziamo per la sessione che deve iniziare velocemente nel 2010 ho fondiato assieme ad altri il comitato cittadino democrazia diretta che mirava ad andare in ogni comune per cercare di fare attuare il decreto legislativo 267 del 2000 che finalmente attuava gli articoli della Costituzione che parlavano di democrazia diretta di partecipazione probabilmente abbiamo sbagliato perché eravamo in pochi abbiamo approvato a Milano o in altre città in qualcuna ci siamo riusciti a Marsala o che cosa però noi chiedevamo brutalmente che si attuassero i referendum propositivi i referendum deliberativi eccetera eccetera con un quorum zero anche perché il quorum effettivamente è un gioco sporco perché da due possibilità a chi vuole sfuggire una quella di andarsi di starsene a casa è una quella di andare a votare mentre chi vuole andare a votare ha solo quella possibilità e quindi una parte a due possibilità di vittoria l'altra ne ha una sola è poco poco democratico ecco io chiedo adesso a voi se questa queste domande possono essere accettate grazie guido grazie mille grazie mille